Ciao a tutti, bentornati! Qualche video fa vi ho parlato della mia wishlist di Sephora dei prodotti make-up Vi ho già apertamente dichiarato di avere diverse wishlist di vario tipo, di vario genere Tra queste, molto importante, c'è la mia wishlist di prodotti skin care Nell'ultimo anno circa mi sono avvicinata tantissimo alla skin care Quindi vado molto alla skin care, sono molto attenta, ho fatto le mie ricerche Insomma, sto cercando sempre di imparare cose nuove perché insomma la skin care è un mondo a parte Quindi per quanto mi riguarda è fondamentale tanto quanto il make-up, forse più importante anche del make-up La skin care prima di tutto Quindi oggi parliamo della mia wishlist di Sephora di prodotti skin care Penso tra l'altro che Sephora abbia un'immensità di prodotti di skin care Così come per i prodotti di make-up Ma nello specifico per i prodotti skin care, Sephora secondo me copre una vastissima fetta di mercato Perché ci sono prodotti di qualsiasi tipo, di qualsiasi genere, per qualsiasi tasca Perché troviamo prodotti super high cost E prodotti anche, non dico low cost, però insomma fascia media Io direi fascia media, fascia alta e fascia super alta Perché troviamo anche prodotti molto molto costosi Tra i prodotti che sicuramente vorrei provare c'è il tonico di Fresh Devo dire anche che io ai tonici mi sono avvicinata nell'ultimo periodo Prima non li usavo, però non li usavo Ultimamente però sto scoprendo l'importanza del tonico E trovo che un buon tonico permetta anche, secondo me, a tutta la parte successiva della skin care Ad avere un'azione migliore A permettere anche ai prodotti di penetrare molto meglio, secondo me, all'interno della pelle E quindi penso che il tonico sia molto molto importante Ritornando al tonico di Fresh Vorrei provarlo perché è un tonico molto idratante Allo stesso tempo anche che dona lucentezza E che va anche a purificare i pori fino in profondità E che va anche a restringere i pori All'interno credo non solo petali di rosa Ma anche altri ingredienti che adesso non so dirvi quali sono Ma degli oli essenziali particolari Che permettono appunto di idratare la pelle molto molto bene Quindi questo tonico, tra l'altro molto particolare E' uno di quelli che mi alletta parecchio Un altro prodotto che vorrei provare sono i sieri di farsali Che tra l'altro non ho ben capito quanto siano validi ed efficaci Perché ci sono persone che li amano Altri invece che insomma non li apprezzano particolarmente Io come sempre mi faccio ingannare dal marketing e dalla bellezza dei prodotti Perché sono fatta così In ogni caso c'è un cofanetto su Sephora di farsali Con i loro tre sieri più famosi credo Che tra l'altro costa anche pochissimo 20 euro anche se penso sia il formato da viaggio in Minitalia E ci sono, c'è lo Skintune Blur Che è la versione verde petrolio Vi dico anche quali sono, qual è il disclaimer Dove dice di andare a ridurre i pori E ad ammorbidire molto la pelle La texture della pelle Poi c'è lo Unicorn Essence Per il solo fatto che si chiama Unicorn Essence Va benissimo, mi piace Questo qui ha all'interno vitamina C Quindi dona un effetto luminoso alla pelle E poi c'è quello nella versione nera Il Volcanic Elixir Che vi dico, perché non ricordo bene Quali siano le sue proprietà Migliora la carnagione e la luminosità Anche lui E riduce la comparsa di imperfezioni Quindi questo cofanetto mi alletta tantissimo Un altro prodotto che è nella mia wishlist Da secoli remoti E' un prodotto famosissimo E che io insomma vorrei provare Ma costa davvero tanto Quindi sono sempre il chi va là E' il famosissimo siero di Estée Lauder L'Advance Night Repair Questo siero, chiunque l'abbia provato Dice che faccia miracoli E comunque con l'utilizzo di questo siero La pelle si trasforma e migliora A vista d'occhio Tra l'altro ci sono vari formati di questo prodotto C'è il formato piccolissimo C'è il formato da 100 ml che costa 100 euro Non ricordo, non so benissimo i prezzi Penso che quello che io ho tra l'altro Nella mia wishlist da 75 ml Costa 135 euro Questo dovrebbe attenuare i seni di espressione Andare a levigare la pelle Illuminare la pelle Insomma questo siero pare faccia un sacco di cose E questo è uno di quelli che davvero Insomma sono molto tentata Lo vorrei tanto provare Perché pare sia quasi miracoloso Poi c'è anche un gommage Che vorrei provare Del gommage di Wishful Tra l'altro ho scoperto Che Wishful è il brand di skin care Di Muda Beauty Che non sapevo E in realtà io sto utilizzando Uno scrub Però vorrei Visto che insomma la mia pelle È non dico delicata Però quando utilizzo lo scrub Vado a insomma Lavorare sulla pelle Insomma per così dire Si arrossa molto Perché io insomma soffro un po' Di rossori sulla pelle Quindi vorrei provare un prodotto Un po' più delicato Quindi un gommage Che dovrebbe essere un po' meno aggressivo Rispetto a un normale scrub Quello che io tra l'altro Lo sto adorando Mi piace tantissimo E ve ne ho parlato anche in un haul Che ho fatto da Sephora E mi piace tantissimo Della brand Nip più Fab Una cosa del genere E mi piace tanto Però Mi voglio provare uno Un po' più delicato Rispetto al normalissimo scrub Un altro prodotto Presente nella mia wish list Da un po' di tempo È un prodotto Della Olen Rixen Ed è il gel Vi dico come si chiama Invigorating Night Transformation Gel È un gel Che va applicato Di notte Ha un gel Con all'interno Dei principi attivi Gli AHA Che tra l'altro Adesso sto studiando Anche questi acidi Di AHA I BHA Insomma Gli sto studiando adesso Sto insomma Capendo un attimino Le funzioni Questo gel È un gel Che va a Levigare La pelle Insomma Dona Insomma Elasticità alla pelle E uniformità Anche alla pelle Quindi più che altro Alla texture della pelle Tra l'altro Una delle mie amiche Una delle mie più care amiche L'ha provato Ad esempio Lei mi diceva Che inizialmente Ha avuto un sacco di sfoghi Con questo prodotto Però io consigliandole Di utilizzarlo Associato a una crema La crema idratante Mi dice insomma Che gli effetti li vede Pare sia davvero Molto molto buono Quindi lei tra l'altro Me lo consiglia In realtà Questo prodotto È consigliato Per chi ha Delle imperfezioni O comunque Per chi Insomma Volesse Rigenerare un po' La propria pelle Certo Io non ho Di questi problemi Però Insomma Non vorrei provare A proposito Di prodotti Con all'interno Principi attivi E acidi attivi C'è anche un prodotto Della Face D Il Pure Plump HA4 Acido Ialuronico In sostanza Dovrebbe essere Un acido Ialuronico puro Io in realtà Prima di comprare Questo prodotto Voglio prima capire Se è il caso Di applicarlo In un periodo Come questo Magari d'estate Se è il caso Di applicarlo Da solo Se è il caso Di applicarlo Associato ad altri prodotti Insomma Devo un attimo Capire Come andrebbe Utilizzato Pare che vada A idratare profondamente La pelle Fino alla profondità E un effetto Rassodante Immediato Tra le creme Idratanti Che vorrei provare C'è la crema Di Origins Si chiama Ginzing È una crema Energizzante E super idratante Promette di essere Di donare Ragiosità Alla pelle E freschezza Per circa 72 ore E di donare Anche Una lunga Idratazione Istantanea Idratazione Questa qui L'esempio Ed è un sacco Che vorrei provarla Molto simile A questa Come crema Idratante Ma anche L'energizzante È della Herborian Se la trovo Si Ed è La Red Pepper Pulp Ed è una crema Anch'essa Energizzante Quindi fresca Energizzante Ma anche Allo stesso tempo Illuminante E anche questa Vorrei provarla Perché all'interno Anche Polpa di peperoncino Che vanno anche A rimpolpare la pelle Quindi è molto ricca Come crema Questa vorrei provarla Anche Mi incuriosisce Davvero tantissimo Un altro prodotto Che vorrei provare Questo prodotto Me l'ha consigliato La mia migliore amica Che tra l'altro Anche lei Si sta appassionando Si sta avvicinando In maniera particolare Alla skin care Tra l'altro La sto anche contagiando Influenzando Particolarmente L'ultimo periodo Ed è un prodotto Della Laneige Ed è una maschera Contorno occhi Da notte Non avendo mai provato Io maschere notte Per il contorno occhi In realtà Una novità per me Promette di andare A idratare In profondità Il contorno occhi A rimpolpare Il contorno occhi E donare anche Il sollievo Voi sapere Voi sapete Voi sapete che Io soffro Di occhiaie Più che di occhiaie Di borse Cerco sempre Un prodotto Che vada A ridurre Un po' Le borse Che vada A editatarle Che vada A simulare La circolazione Quindi Dovrebbe essere Quel tipo di prodotto Dovrebbe anche Donare Uno sguardo Un po' Più Riposato Disteso All'interno Anche caffeina Questo è positivo Perché per chi Soffre di borse La caffeina Fa benissimo Perché va Anche a simulare Un sacco La circolazione E quindi a sgonfiarle Quindi Questo è uno di quelli Che voglio provare Proprio nell'immediato Sempre di Laneige Vorrei provare Anche la maschera Notte La water sleeping mask Anche io Anche di maschere viso Non ho mai provato Le maschere notte Non so Insomma Quanto possano essere Efficaci Anche questa Questa maschera Dice di essere Rifrescante Idratante E durante il sonno Va Appunto Fino in profondità E fornisce Una dose Di idratazione Grazie all'acqua Minerale Idro Riparatore E quindi Ricca di vitamine E minerali Promette tra l'altro Una pelle Uniforma Elastica E profondamente Idratata Quindi anche questa È Più che altro Voglio provare Anche questa Tipologia di prodotti Un po' più innovativa Diversa rispetto Ai classici prodotti Che sono abituata Io a utilizzare Quindi Questi prodotti Un po' Particolari Mi incuriosiscono Particolarmente Per quanto riguarda Invece i pori C'è una maschera Della Sand Escai Un brand Che anche questo qui Non conosco Non ho mai provato Che promette Di andare a ridurre Un sacco i pori All'interno Argilla rosa australiana Promette anche Di detossinare E illuminare Il viso E di ridurre Appunto I pori Di ridurre appunto La visibilità Dei pori Cosa che Mi interessa Tanto Promette anche Di siderare Luminosità L'ho detto E di Ah E di Eliminare Anche le tossine Interessante Di Origins Brand che tra l'altro Apprezzo tanto Mi piace un sacco La loro politica Mi piacciono tanto I loro prodotti C'è un Ci sono un po' di cose Che vorrei provare Ad esempio Apprezzo tanto Che Sephora Proponga spesso Questi cofanetti Con all'interno I loro prodotti Magari best seller Ad esempio Della crema Di cui vi parlavo prima Della linea Ginzing C'era un cofanetto Che in realtà Sono giorni Che provo ad acquistarlo Ma è sempre sold out Con all'interno Quella crema Il suo contorno occhi Anche il gel detergente Ma puntualmente Sempre sold out Quindi Non riesco mai A trovarlo reperibile Purtroppo C'è anche un altro Cofanetto Di una linea Con all'interno Diversi prodotti Tra l'altro Con un prezzo Anche abbastanza Vantaggioso Una linea Lenitiva In vista dell'estate Io puntavo Su quel cofanetto C'era all'interno Un siero Una maschera Un detergente Penso anche Una crema Un cofanetto Abbastanza anche ricco E Purtroppo però Anche lui Pare sia sold out Infatti vedo Controllo anche adesso Si chiama Be Resilient Ed è appunto Una linea Lenitiva E idratante E io Poi appunto In vista dell'estate Volevo proprio Prendere quella tipologia Di prodotti La pelle sarà Sottoposta sicuramente A molto più stress Quindi cercavo Una tipologia Di prodotti Di questo tipo Quindi Lenitiva Adolcente Tra l'altro All'interno Quattro prodotti Quindi un siero Un tonico Una maschera E credo anche Una crema Quindi anche Abbastanza completo Come set Però purtroppo Vi confermo Mi confermo Essere sold out Quindi purtroppo Al momento Non potrò Acquistarlo Questi qui Erano Super giù I miei Prodotti I prodotti Che vorrei provare I prodotti presenti Nella mia wishlist Di Sephora Perché chiaramente Poi ce n'è un'altra Magari Su Look Fantastic Su Douglas Insomma Però su Sephora I prodotti Skincare Che vorrei provare Sono questi qui Ditemi anche voi Cosa ne pensate Se li avete provati Se me li consigliate O me li sconsigliate Se vi piacciono I miei video Iscrivetevi al canale Se vi fa piacere Magari anche Attivate anche La campanella Per essere sempre Aggiornati Sull'uscita dei miei video E nulla Io come sempre Vi mando Un bacio grande E ci vediamo presto Ciao